Il comandante del comando scuole dell'aeronautica militare terza regione aerea, il generale di squadra aerea Silvano Frigerio, a Taranto, presso la scuola volontari, per il quarto incorporamento degli allievi WFP1 del 25esimo corso, Forci de Secondo. Lo giuro, il primo passo concreto per la vita nella Forza Azzurra, lei ha detto adesso bisogna un po' mettere da parte i propri desideri, ma sacrificarsi per la collettività. Ci attendiamo che loro possano portare nuova linfa all'arma azzurra e trovare di contro anche grosse soddisfazioni nel lavorare in una forza armata moderna. Sappiamo che nelle scorse ore ha visitato la scuola di Taranto, che cosa è emerso? Connubio ottimale che c'è tra la città e l'aeronautica militare. Comandante, quando ha assunto l'incarico il 12 gennaio scorso, lei si è complimentato perché ha trovato un comando scuole concreto, forte, ma lei pensa di imprimere qualche novità? Un mantra che è quello di evolvere secondo le proprie tradizioni e questo non mancherà di essere anche il mio concetto nel progredire. Oltre ad un'eccellenza nella formazione, questa sede, l'ex idroscalo Bologna, rappresenta un fiero all'occhiello per la città. Ecco, ci sono idee di valorizzazione in tal senso? Certamente, ci sono varie idee di valorizzazione. La prima, il più importante, è quella di recuperare l'ex deposito petrolifero del 65esimo deposito e trasformarlo in un polo universitario per l'innovazione. Questa è un'attività che si sta svolgendo secondo un protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa, il Ministero dello Sviluppo Economico e la città di Taranto. Ovviamente coinvolge un consorzio di varie università.